Pedalare che passione! L'anno scorso in Italia sono stati infatti vendute più biciclette che auto, facendo così in registrano un record per il secondo anno consecutivo. Bici vendute 1 milione e 600 mila, autovetture vendute 1 milione e 400 mila, dati forniti questi dal Ministero dei Trasporti. E naturalmente ancora presto per affermare che stiamo avviandoci verso le tendenze dei paesi virtuosi come anglosassone e paesi bassi, ma intanto la gente comincia a capire che non può passare metà della giornata a girovogare per le città in cerca dei parcheggi. La crisi economica naturalmente ha fatto la sua parte in questa inversione di tendenza con le immatricolazioni di auto che hanno subito l'anno scorso un calo del 5,5%. Chi lascia ogni tanto l'auto in garage per la bicicletta può anche fare un piccolo sacrificio ma alla fine è una scelta non difficile se pesano le convenienze perché c'è la possibilità di bypassare il traffico cittadino nelle ore di punta e soprattutto c'è il risparmio di benzina che con i tempi che corrono ha certo secondario. Ogni tanto si parla anche a vittorie di piste ciclabili ultimamente anche a Scoglitti. Si fa qualche dibattito sul giornale e poi la questione finisce nel dimenticatoio oppure si organizza di tanto in tanto qualche passeggiata ecologica. Dura però lo spazio di un mattino perché poi tornano a rombare i motori.